E questo è bello, capito? Le cose che non cambiano, che rimangono uguali, le abitudini. Questo sapore, questo marocchino, grazie a te, sarà sempre lo stesso. Vendo il bar. Ma chi? All'egiziano, quello del kebab. Dimmi com'è! Grande amico, vendo bello orloge amico. 5 euro, ma non piove più. 4 euro, perché non piove più? Amico, guarda un attimo. Filo di Svezia. Scozia. Si chiama Filo di Scozia. Le prendo tutte se me le metti 20 euro. Abbiamo sempre fatto 15 al paio. Il nero qua fuori fa 5, io lo faccio scendere a 3. Venga dentro, lo troviamo come dire un modo ragionevole per non pestarci i piedi. 5 minuti, le offro un tè. Casa tua è laggiù, da qualche parte, in Africa. Ed è lì che io ti riporterò. Mario, mi chiamo Delida. Quale storia di tornare a casa porterebbe anche me? Dai Mario! Dai! Mi piace a lei. Provai, fai un complimento. Dilli, umbamai soko morimoko. Umbamai soko morimoko. Cazzo, Mario. Mi sa che non ho capito. Lei li stava riportando in Africa. Traghetto, Napoli, Tunisi e poi tutta una tirata fino in Senegal. Se ognuno facesse come me, uno alla volta, vi riportiamo a casa, vi riportiamo tutti. Una vacanza umanitaria. A presto. A presto. Daria è un progetto. Ciò.